Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video, parliamo di mercato azionario, mi è scattato un alert, siamo sul mercato di Procter & Gamble, Sì, Procter & Gamble, scusate mi sono un attimo impicciato, siamo sul giornaliero ragazzi, è una di quelle che viene definite le Blue Chips, una azienda che è interessante, piuttosto solida, robusta, un agglomerato in realtà, se non conoscete Procter & Gamble, semplicemente digitatelo su Google e guardate che cosa vi esce fuori, che cosa sta facendo l'azienda da un po' di tempo? Sta facendo molto bene, perché dopo aver toccato questi minimi qui a maggio, ha cominciato un non nemmeno troppo lento recupero, guardate qui tutti gli impulsi, impulso, ritracciamento, impulso, ritracciamento, vedete? Ed è praticamente arrivata a toccare gli 84 dollari, quindi è andata sopra a questi massimi qui, e adesso è in una fase probabilmente, almeno questa è l'idea che mi sto facendo di Procter & Gamble, è in una fase di ritracciamento, quindi semplicemente stiamo, dopo aver fatto questo impulso, questo ritracciamento, questo nuovo impulso, perché ragazzi questo è un nuovo impulso rialzista? Perché rompe i massimi precedenti, questo è un new structure high, in gergo si chiama NSH, perché rompe i massimi precedenti, e questo è un ritracciamento, ritracciamento che venerdì in chiusura del mercato ha avuto un gap, addirittura è arrivato a toccare qui gli 81 dollari, andandosi a posizionare esattamente sotto a questi valori, però poi che cosa è successo? è successo che oggi ha aperto con un bel incremento, e allora, la mia idea è sicuramente, e ragazzi guardate bene, questi non sono consigli finanziari, lo sapete benissimo, nessuno deve fare nessuna operazione guardando questo video, ma siamo qui a fare didattica e informazione, vi sto facendo vedere che ragionamenti faccio, quindi mi sto creando, vedete, questa idea su Procter & Gamble, e poi adesso cerco conferme per avere un vantaggio statistico dagli indicatori. Una cosa che mi piace è che il gap che c'era stato con il recupero poi di questa candela, questa ragazzi è una candela molto particolare, perché è un hammer, ok, fa parte delle doji, e sono quelle candele che hanno, eccolo qui, un grande spike al ribasso, il corpo della candela è molto piccolo, si chiamano hammer, perché hammer vuol dire martello in inglese, e come vedete ha la forma di un martello, questa di solito è un'indicazione, è un candlestick pattern, è un'indicazione di una possibile inversione del trend. Poi, seconda cosa che mi dicono gli indicatori, ho aperto le Bollinger Bands, vedete che è andata a toccare con il minimo, fatemi cancellare tutto, vedete, si è andata a posizionare e ha rimbalzato in maniera forte, su che cosa? Sulla banda inferiore delle Bollinger Bands. E adesso, con il gap che è aperto, altro segnale positivo, il gap in apertura lunedì, sta superando la mediana delle bande di Bollinger. Andiamo a vedere qualcos'altro, perché voglio ancora delle indicazioni. Andiamoci a mettere l'RSI e andiamoci a mettere un attimo lo stocastico, eccolo qua. Allora, l'RSI, guardate, anche qui, era quasi, è arrivato a 30, che per molti è l'oversold, per me non lo è perché ce l'ho a 20, però è andato vicino all'oversold, per quanto mi riguarda, e adesso vedete che sta andando, si ritrova al centro, stiamo al 50 come valore. Quindi, indicazione anche dell'RSI, lo stocastico è leggermente sotto al centro, quindi anche questa la possibilità, e vedete che adesso la banda blu sta crossando la banda rossa, e anche questo ci dà un'indicazione. Guardate, ve ne faccio vedere un'altra, solo per farvi vedere come uso gli indicatori, io, semplicemente a conferma dell'idea che mi sono fatto del sottostante. Ecco un'altra indicazione qua, lo stocastico, vedete che lo stocastico è passato, lo stocastico sono questi puntini, ragazzi, guardate, vi tolgo le bande di Bollinger, così lo vedete meglio, il SAR, il parabolic SAR, e ho detto stocastico ma volevo dire il SAR, vedete che da i pallini sotto è passato sopra, quindi questa è un'indicazione di bearish, non bullish, perché qui eravamo bullish, dopo questo gap c'è stata un'indicazione bearish, che ancora non ci ha confermato e non si è posizionata sotto, quindi il SAR è l'unico che ancora non mi dà una conferma al rialzo. Personalmente, quello che vorrei vedere prima di pensare di entrare, perché a me non bastano tutte queste conferme, poi ne voglio una che è quella più importante, che è quella sul prezzo, bene, quello che voglio vedere è che il prezzo possa arrivare sicuramente sopra, chiudere sopra questi valori, quindi circa 83,5. Per me questa può essere l'ultimo parametro, l'ultima cosa che aspettavo prima di poter decidere se entrare o meno, però questo trigger, ragazzi, dipende dalle vostre strategie, questa è una mia strategia e io aspetto questo trigger, non è detto che voi dovete aspettare questo, anzi, come al solito, non essendo questo un consiglio finanziario, saprete bene qual è la vostra strategia e come comportarvi. Volevo però fare un po' di, così, ad alta voce, analisi su questo sottostante. Un'altra cosa che potete fare è con le opzioni, eccola qui, guardate, con le opzioni, andiamo a vederci le opzioni di Procter & Gamble, io già l'ho messa a mercato, in realtà non mi è ancora entrata, se la vostra visione non è ribassista, andiamo a metterci un po' a una quarantina di giorni di distanza, siamo a 82, guardate, potreste comprare una call, e qui ci sono queste tre call molto interessanti, perché guardate gli open interest, 23,2 mila, 5,78 mila, 17,77 mila, stiamo parlando di strike che vanno dall'80 all'85, quindi potreste posizionarvi qua, il prezzo varia da 3,70 dollari per lo strike a 80, vuol dire 370 euro, ricordate che quando comprate voi siete a debito, quei soldi li date al mercato, e fino ai 0,85 con strike 85. Gli open interest maggiori sono sull'80 e l'85, queste sono indicazioni importanti, come al solito, un'altra indicazione importante è che oggi i volumi, e i volumi rappresentano i contratti aperti oggi, si stanno posizionando sugli 85, quindi è interessante vedere che cosa succederà, e vedrete che potete agire in differenti modi, come vi dico sempre, sull'azionario, ma sulle materie prime, su praticamente molti degli asset, non c'è solo l'entrata in acquisto o in vendita, potete usare le opzioni, potete usare gli spread, se lavorate sulle materie prima, quindi due contratti con scadenze diverse, insomma ragazzi, il bello del trading è, più avete armi, più avete frecce al vostro arco da trader, e più saprete meglio affrontare i mercati, e usare lo strumento più giusto. Per ora è tutto, grazie mille dell'attenzione, ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!